Buonasera da Piazza San Pietro. Il Papa questa mattina ha ribadito che i bambini hanno diritto a crescere in una famiglia con una mamma ed un papà e hanno diritto ad un ambiente idoneo al loro sviluppo affettivo. Lo ha detto incontrando, intervenendo al colloquio internazionale interreligioso sulla complementarietà tra uomo e donna promosso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede insieme a una serie di pontifici consigli competenti. Complementarietà intesa, ha spiegato Bergoglio, come armonia e il Papa poi ha invitato anche però a non cadere nella trappola della ideologia proprio riferita al concetto di famiglia.